Napoli anche grazie per Teleclub Italia, mister intanto benvenuto nella nostra città e le chiedo, lei ha detto parliamo dei nomi nostri, lei ha fatto il nome di Zelischi, ha fatto il nome anche di altri calciatori Politano, Insigne, ma c'è anche Lozano e si potrebbe pensare a un 4-3-3 anche spostando Simen casomai al centro Facile di tutti quella lì perché basta invertire il vertice, vertice alto, vertice basso, va a posto da sé poi effettivamente come dice lei può essere anche 4-3-3, io ho detto 4-2-3-1 soprattutto la base in funzione della palla agli avversari poi quando abbiamo palla noi quella è una rotazione abbastanza facile da fare perché di solito i due mediani con i due centrali è un quadrato che tecnicamente viene abbastanza scontato e abbastanza difficile farci girare palla dentro per cui i due mediani in verticale, il mediano che entra dentro i due centrali di Lorenzo ora in nazionale spesso fa il terzo centrale più stretto sulla destra e alzano il terzino sinistro L'essenziale è non tirare a campare, è tirare a vivere, poi va a posto tutto Lozano mi piace Lozano mi piace Bene È quello che mi ha buttato fuori dalla Champions League con l'Inter, Lozano perché fu una delle sue accelerazioni a crearci problemi dopo aver fatto una buona partita Ok Ok